Ciao a tutti, sono Darren4, lo youtuber ufficiale del Torino Calcio, iscriviti al canale, iscriviti al canale, iscriviti al canale. Allora, il Toro va a Roma, andiamo a Roma senza nessun obiettivo, situazione di classifica ultra mediocre, non stiamo lottando per nulla, la Lazio lotta per l'Europa League. È stata una partita da quale il Toro, ovviamente, come fa praticamente sempre con le cosiddette big, gioca bene, ha fatto girare bene la palla, comunque in buona forma, se non molto buona forma a tutti i giocatori, una difesa solida, buon portiere, qualche errore, qualche imprecisione, Belotti distratto, Brecolo comunque, che secondo me poteva fare di più per quello che è nelle sue corde. Voivoda, forse troppo nervoso, Olaina, vabbè, Olaina, Ricci ha fatto un po' il Lukic della situazione, ho notato che Ricci lo fanno, Juric gli fa fare un po' quello che ha sempre fatto Lukic, ovvero gli fa prendere palla da dietro, eccetera. In sostanza la Lazio ha fatto molto poco. Allora, io lo so che in questo periodo bisognerebbe, e io sono primo a farlo, cioè lo faccio di sicuro a promulgare la pace, ci mancherebbe. Però mi spiace, ma io odio, io odio, ragazzi, mi spiace, è la verità, potete anche non dirlo, ma io odio Ciro Immobile, io odio quest'uomo. Cioè non ha fatto un cazzo tutta la partita, ce l'ho ovviamente contro la fantacalcia, con questo suo modo claudicante di correre di merda, io veramente ho un problema, veramente ho un problema con quest'uomo. Lo odio, lo odio, odio Ciro Immobile, lo sapevo, e riuscite a metterla. Ma comunque la colpa ovviamente è nostra, perché non era fuorigioco. Cioè, è vero che non lottavamo per nulla, però io lo sapevo che non portavamo a casa nemmeno sta partita. Io lo sapevo! Cioè ragazzi, ma ti fa rettore veramente una roba, cioè è talmente una roba sofferente, che anche se sai già che non porti a casa il risultato, quando tutto fa pensare che dovresti farlo, ma tu sai che stai vedendo una squadra che è il Toro, non è il Sassuolo, il Genoa, il Milano, è il Toro, anche se lo sei già. E anche se sai che non lotti per nulla, poi ti viene veramente un embolo, cioè perché ti fa incazzare, è assurdo, è assurdo, è assurdo. Per me è gigantesco contro il Moble, che infatti l'ha, come si sapeva, annichilito. L'ha annichilito. Non ha fatto un cazzo, ma il discorso non è tanto quello, perché a me questo discorso che non ha fatto un cazzo, però che ha fatto gol non vuol dire nulla, vuol dire che allora uno è bravo se non fa un cazzo per fare gol. Pellegri che entra in campo, ok ha fatto gol, però poi amico mio, fai una cosa buona, ma poi non mi sbagliare, quella apertura sul fidanzo, quel contropiede, dagli la prima. Comunque, Pellegri che fa un fallo da munizione e poi dice, però è il primo fallo, questo non vuol dire un cazzo. Ragazzi, se tu fai un fallo da espulsione dopo 10 secondi, si deve spellere, questa è la mia idea. Però ragazzi io, cioè non ce la posso fare, io, perché io odio, perché io sono tifo toro, ma odio il coloro che lo rappresentano? Perché sembra veramente un continuo scherzo, sembra un continuo prank. Cioè vedere il toro e vedere un prank, perché non è possibile, cioè non è possibile. Cioè al 93esimo, cioè io lo sapevo, lo sapevo, perché poi siamo una buona squadra quest'anno. Ripeto, è stata una partita giocata bene, è stata una partita giocata bene, con delle pecche ma giocata bene, anche se non valeva nulla. Ma anche solo per togliere la possibilità alla Lazio, che mi sa sulle palle, perché io odio immobile, di poter fare punti, avrei goduto nel vincerla, che poi comunque voglio sempre vincere, quindi prendersi questi tre punti. Ma ci sta bene, comunque sì, ci sta bene, perché siamo delle testa di cazzo. Sappiamo benissimo che immobile è un fottuto testa di minchia, perché è forte. Cosa cazzo lo lasci da solo lì dietro? Cioè ma marcatelo a uomo, non so neanche di chi era. In teoria di Bremet, in teoria di Bremet, Bremet che lo mettono in capo, penso di sì, perché è entrato Buongiorno, è entrato Zima, penso fosse in capo, penso perché ho avuto dei problemi di condizione, di merda, quindi penso fosse in capo. Ma chiunque sia, cioè tienimi immobile a uomo, tienimelo a uomo, porca di quella puttana. E Belotti veramente, Belotti se ne può anche andare, ma non ce l'ho con Belotti, però veramente Belotti non... Tutta questa sorta di notizie che si accavallano, questa sorta di continuo... Come dire, continua gestione di Belotti che in realtà deve andare via, sicuramente va via, notizie di Google che arrivano, alcune fake, altre no. Ma basta, cioè nel senso, Belotti è un giocatore medio-cristico, può giocare nel Sassuolo, ragazzi. E se noi siamo usciti dal... non diamo ai mondiali, tra l'altro, se non siamo andati ai mondiali, io sono contento, sono contento perché non si può avere un giocatore come Belotti, come punta, non si può avere un giocatore come Berardi, come punta, che per carità, ok, ma gioca nel Sassuolo e comunque non è niente di che. Non si può avere un immobile che io odio, che con la Lazio fa faville, comunque, in un modo oltre te la mette sempre, avrà fatto, penso, 2500 coli in due anni, così, e poi nella nazionale fa cagare. E soprattutto sono contento che l'Italia sia fuori dei mondiali perché non mi puoi far giocare i brasiliani, non mi puoi far giocare Gio Pedro. Comunque, odio Ciro Immobile, ma odio ancora di più veramente questi giocatori qua che hanno le qualità, le mettono in campo e spiegatemi voi come è possibile che ogni volta ce la dobbiamo pigliare in cura all'ultimo. Allora, dopo il 4-0 con la Fiorentina, io ho pensato, ok, siamo lanciati e riusciamo incredibilmente a raggiungere quanto meno la Conference League. No, no, noi siamo, come dico sempre, siamo votati, destinati evidentemente alla mediocrità e quindi 1-1, la scorsa volta con 1000, 00, io sento solo persone a dire beh, 00, abbiamo preso un punto con 1000, ma andatevene a fanculo, va?